Piana del Sele e Zess al centro del convegno che si terrà lunedì alle 16 nella sala Ritz di Eboli. L'incontro, che sarà moderato dalla giornalista Rosaria Sica, affronterà i temi legati alle zone economiche speciali e vedrà la partecipazione di amministratori locali, regionali e nazionali del Partito Democratico, a cominciare dai consiglieri regionali Luca Cascone e Franco Picarone e dal deputato Piero De Luca, vicepresidente del gruppo PD della Camera. Un'occasione per approfondire le opportunità delle zone economiche speciali nate per favorire la creazione di condizioni favorevoli per le aziende e per lo sviluppo del tessuto produttivo.